Grazie Presidente. Dunque, Presidente Conte, quella che vi trovate di fronte, che lei si trova di fronte al Consiglio europeo di domani e dopo domani è oggettivamente una grande responsabilità. Trovare una soluzione a un'emergenza che investe l'Italia da ormai sei anni, l'emergenza migratoria, l'Italia e non solo l'Italia, oppure sancire definitivamente la morte dell'Unione europea. E insomma, è un momento storico. Lei si trova domani di fronte a un momento storico e alla mia solidarietà, perché insomma trovarsi nel pieno della tempesta a poche settimane dal suo primo incarico istituzionale non deve essere una cosa facile, però la tranquillizzo. In questi pochi giorni avete già fatto meglio di quelli che vi hanno preceduto. I governi fantoccio che sono stati lì a eseguire pedisseguamente quello che diceva l'Unione europea. Il fatto stesso che l'Italia si presenti domani con una sua proposta per noi è una novità. E quindi per questo la ringraziamo. La musica è cambiata, lo sanno tutti, l'Europa se ne è resa conto, il tema della chiusura dei porti ha fatto molto discutere. Insomma, l'atteggiamento è giusto. Con la stessa franchezza però, Presidente, io le devo dire che trovo la proposta italiana troppo timida. La trovo insufficiente. In alcuni tratti non ne condivido e Fratelli d'Italia non ne condivido i presupposti. E tenterò di spiegarle perché con lo stesso spirito costruttivo che abbiamo avuto in tutta questa fase di rapporto con lo governo. Abbiamo letto la proposta del governo con attenzione, i vostri dieci punti. Ci sono tante questioni che condividiamo. Bene intensificare gli accordi con gli stati di transito dei migranti, come la Libia o il Niger. Bene il contrasto della tratta di esseri umani a livello europeo. Bene la volontà di rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea. Così bene che penso siano d'accordo tutti. Nessuno potrebbe dire di non essere d'accordo con quello che c'è scritto in buona parte del vostro documento. Sono dichiarazioni di buonsenso. Quello su cui poi però non siamo d'accordo è quali debbano essere gli strumenti per raggiungere questi obiettivi e questi risultati. Perché di grazia Presidente Conte. Che cosa significa rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea o dell'Italia per una nazione che sta affrontando la crisi migratoria e che ha visto arrivare in cinque anni 600 mila immigrati clandestini se non andare in Europa e trattare una missione europea che produca un blocco navale a largo delle coste della Libia per impedire che i barconi partano. Questa è l'unica cosa sensata da fare. Questa. Bene la chiusura dei porti. Bene dire. Ho sentito dire al Ministro Salvini una proposta storica di Fratelli d'Italia e sono contenta che ci abbia ascoltato. Bene dire le navi delle organizzazioni non governative che decidono di portare i migranti entrino in porto, vengano sequestrate, gli equipaggi vengano denunciati per tratta di essere umani e per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Bene. Però non risolve. Bene perché vediamo quante navi si riesce a comprare Soros. Però non risolve. Perché infatti nei giorni in cui noi discutevamo della nave Aquarius, segnale importante, in Italia sono arrivati 2.000 emigrati portati dalle navi della Marina Militare. È come svuotare l'oceano con un cucchiaino, a meno che non impediamo la partenza dei barconi, a meno che a monte non affrontiamo la questione. Ora, ho sentito dire che purtroppo il tema del blocco navale non c'è nella sua relazione, non c'era nel contratto del governo grillo-leghista, non c'era nel suo intervento di insediamento, mi pare di capire che non sia la vostra proposta. Ho sentito invece alcuni ministri dire qualcosa sul blocco navale. Ho sentito il ministro Trenta dire che il blocco navale non si può fare perché è un atto di guerra contro la Libia. Consentitemelo, per queste sciocchezze non serviva il governo del cambiamento. Ci tenevamo Renzi, Gentiloni, Alfano e forse pure la presidente Boldrini. Il blocco navale si può fare e come? Basta volerlo. E guardate, si può fare senza essere considerati dei mostri. Sapete chi è l'ultimo ad aver applicato un blocco navale? Un signore che si chiama Romano Prodi, 1997, decise di usare le navi della Marina Militare Italiana per impedire ai barconi di partire dall'Albania. Chiedete a lui come si fa, lo dico alle anime belle della sinistra. Secondo tema. Il blocco navale è un atto di ostilità, certo, se non si fa in accordo con i governi libici, ma non è un altrettanto atto di ostilità. Cercare di invaderci, lasciando che partano dalla Libia in cinque anni 600.000 immigrati clandestini. Perché in teoria, in via del tutto teorica, il blocco navale potrebbe essere anche una risposta a un atto di ostilità. Ma non è quello che noi proponiamo. Quello che noi proponiamo è un blocco navale in accordo con i governi libici. Che si può fare, signore? L'Europa ha tutte le argomentazioni diplomatiche, economiche e militari per convincere le autorità libiche a collaborare per un blocco navale concordato. Si potrebbe, per esempio, fare quello che l'Europa ha deciso di fare con la Turchia di Erdogan per fermare gli immigrati che arrivavano dalla rotta balcanica. 6 miliardi di euro in quattro anni. Sa, Presidente Conte, che l'Italia, abbandonata da sola a governare i flussi migratori che arrivano dal Mediterraneo, ha dovuto pure cacciare 224 milioni di euro per pagare la Turchia di Erdogan, perché così la Turchia di Erdogan fermava gli immigrati che partivano dall'est. Perché gli immigrati che partivano dall'est davano fastidio a sua eccellenza Angela Merkel. E quindi l'Unione Europea ha pensato bene di spendere 6 miliardi di euro, mentre di quelli che arrivano dal sud non frega niente a nessuno perché tanto arrivano in Italia. Si può chiedere in Europa lo stesso trattamento che ha avuto la Germania, che hanno avuto le nazioni che erano preoccupate dalla rotta balcanica? Io penso che si debba andare a chiedere questo. Penso che si debba chiedere pari opportunità e pari risposte. In Libia ci sono due governi, lo sappiamo tutti, quello della Tripolitania, il governo ufficiale di Serrai e quello della Cirenaica, del generale Haftar. Ecco, io penso che il discorso sia abbastanza semplice. miliardi di euro europei e sostegno per chi collabora, ostilità diplomatica e militare per chi non intende farlo. Volete farci credere che davanti a questa alternativa una delle fazioni in campo deciderà di dichiarare guerra all'Italia, all'Unione Europea o alla Nato? Consegnando tra l'altro la vittoria sul campo alle fazioni nemiche che si saranno dimostrate più dialoganti con l'Europa? Ecco, insomma, io credo che questo non accadrebbe. Allora, blocco navale è l'unica soluzione. Tutto il resto, mi dispiace, è importante, ma continuerà a metterci di fronte all'emergenza migratoria. Purtroppo non c'è, dicevo, nella vostra proposta, nel vostro documento. C'è nella risoluzione che ha presentato Fratelli d'Italia. Quindi magari può essere questa un'occasione per ripensarci, approvare una risoluzione che vuole essere collaborativa col Governo per risolvere definitivamente la questione e cambiare davvero le cose. Purtroppo, Presidente Conte, questo del blocco navale non è l'unico elemento di continuità che io vedo con i precedenti governi. Nella proposta italiana non si fa alcun accenno ai rimpatri. Rimpatri sono una delle questioni sulle quali mi pareva che fossimo in molti d'accordo. Che cosa abbiamo deciso di fare con i 600.000 immigrati clandestini che sono arrivati in questi anni? Ce li teniamo? Che cosa intendiamo fare con quelli che arriveranno se non fate il blocco navale? Ce li teniamo? Non sono d'accordo. Certo, lei mi potrebbe rispondere alla questione dei rimpatri e a questione di politica interna, ma io le oppongo qui e noi lo abbiamo messo nella risoluzione proprio perché invece riteniamo che la questione dei rimpatri sia una competenza dell'Unione Europea e che debba essere l'Unione Europea a stanziare un apposito fondo per consentirci di rimpatriare gli immigrati clandestini. C'è anche questo nella nostra proposta di risoluzione. E la terza questione che mi preoccupa, le devo dire sinceramente, Presidente Conte, è il tema del superamento, come voi lo chiamate, degli accordi di Dublino. Sono contenta che lei abbia cambiato idea rispetto a quello che ci è venuto a dire nel suo discorso di insediamento, e cioè che il problema dell'immigrazione clandestina si risolveva rivedendo gli accordi di Dublino. Le dovetti spiegare in quest'Aula che gli accordi di Dublino riguardavano solamente i rifugiati, e cioè circa l'8% di quelli che arrivano da noi. Voi sono contenta di sentirglielo dire oggi, perché vuol dire che l'ho convinta la volta scorsa, però mi consenta. La soluzione che voi prospettate mi pare un po' paradossale. Visto che Dublino riguarda solo i rifugiati e da noi arrivano gli immigrati clandestini, cioè i migranti economici, allora lo modifichiamo nel senso di pretendere che l'Europa sia disposta a distribuire i migranti economici. Scusate, ma come pensate mai che l'Europa la possa accogliere una proposta del genere? Rischiate di trovarvi assolutamente e completamente isolati tra le nazioni dell'Est Europa, Gruppo Visegrad, che i confini esterni dell'Unione Europea lì governano e chiedono a noi di fare altrettanto, e che non sono disposti a prendersi i nostri immigrati clandestini che noi facciamo entrare perché non siamo in grado di governare i nostri confini mentre gli altri governano i loro, e la Francia e la Germania che diranno che devono arrivare tutti ma devono stare in Italia. Così diventiamo il loro campo profughi, che è il grande sogno della Merkel e di Macron. E mi faccia dire una frase su Macron e chiudo. Presidente, una frase su Macron e chiudo. Noi abbiamo dovuto sopportare ogni genere di insulto dalla Francia in questi giorni. Ci hanno detto che eravamo cinici, irresponsabili, vomitevoli. Pretendo che l'Italia vada al Consiglio Europeo e che risponda a Macron su queste accuse, chiedendo conto del comportamento di una Francia che, in quanto ha irresponsabilità, è la prima responsabile dell'emergenza migratoria grazie ai suoi bombardamenti nel 2011 della Libia, che bombardò per meri interessi di carattere economico. E pretendo che lei chieda conto alla Francia anche sull'accusa di essere cinici, perché non c'è nazione più cinica di quella che ancora oggi stampa la moneta per intere nazioni africane e applica l'usura a quelle nazioni, come se il colonialismo, i danni fatti dal colonialismo non fossero sufficienti. Non accettiamo lezioni da gente che sgombera con le ruspe i propri campi di immigrati. Quindi Macron deve fare silenzio e io pretendo che lei glielo vada a dire, perché l'Italia ha solamente da dare lezioni a questa gente cinica e irresponsabile. Grazie. Grazie.